Per Celso Iara Martínez la scorsa è stata una stagione da ricordare, una serata memorabile che tutti gli appassionati del Palermo ricordano, quella del quarto di finale contro il Parma in Team Cup, adesso una nuova stagione nella quale bisogna dimostrare tutto il proprio valore. Sì, era una serata inorvitabile per me, però quello è successo, adesso siamo in una nuova stagione, tutti con il mister nuovo, sono partito con la prima squadra, adesso sono con il mister, solo penso a fare bene questo anno e trovare più di spazio alla prima squadra. Adesso è anche importante, Celso, stare bene fisicamente, lo scorso anno hai avuto qualche problemino, problemini che sono stati risolti, adesso qual è la tua condizione fisica, ti senti già pronto per affrontare impegni importanti? Sì, l'anno scorso sono stato male, adesso sono venuto con la testa dicendo che questo anno deve essere l'anno meno e sono adesso al 100%. Abbiamo visto che il nuovo tecnico, Devis Mangia, punta molto sul concetto di gruppo, deve esserci una squadra di amici prima ancora che una squadra forte sul campo. Sì, la squadra si dice forte quando c'è un gruppo uniti e tutti quando dicono una cosa si deve fare, quello dice comanda tutti dentro il campo, fuori il campo, quando parla il mister, quando dice il mister, tutti questi. L'obiettivo personale di Celso Iara Martínez per quest'anno vuoi promettere un certo numero di gol, vuoi promettere un traguardo? Ho promesso a due o tre compagni di squadra 16 gol, in questo anno aspetto di farlo quello 16 gol. Per arrivare ai play-off insomma? Eh, quello è il mio, come si dice, obiettivo è farle bene, questo anno con la primavera e poi se c'è un posto nel primo squadra lo decide il mister. Grazie.